Gentili telespettatori, buona giornata. Ora è il turno di Elena Edelschlein per chiamare il suo amico romeno per il caso di un altro italiano detenuto. Facciamo una premessa, gli italiani detenuti nel mondo, giustamente e ingiustamente chi lo sa, sono circa 2000. Ogni tanto viene qualche caso alla luce perché la stampa si interessa, allora se ne interessa anche la politica, ma solitamente degli italiani detenuti all'estero non gliene può frega de meno a nessuno, assolutamente a nessuno. Ma è venuto fuori il caso Ilaria Salis perché è mediaticamente diventato principale e allora la politica si è interessata, ma ce ne sono tanti altri casi come quello di Mosca, detenuto in Romania. Dato che la compagna Elena, detta Ellie, diceva questo su Meloni, Salis deve tornare in Italia, il governo si attivi per una cittadina italiana. Meloni si è sempre scelta, alleati e amici sbagliati, in riferimento ai rapporti con Orban, peraltro già da tempo leggermente incrinati. Ma ciò che Elena, che si fa chiamare Ellie, non dice, è che i suoi alleati, alleati della stessa area politica, non si comportano, certo meglio. Marcel Ciaolacu, primo ministro della Romania, del partito social democratico, un po' tipo radical chic, un po' social democratico. Come mai la Schlein non si attiva per chiederne immediatamente la scarcerazione? Se no vuol dire che anche lei si sceglie gli amici sbagliati. Eh sì, visto che nelle carceri rumene c'è questo Filippo Mosca, 29enne di Caltanissetta, ristretto a Costanza dopo essere stato arrestato e condannato a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze. I suoi legali hanno sempre definito una farsa il suo processo. Ha trascorso mesi tra topi e scarafaggi, in una struttura con 24 persone in 23 metri quadri. Forse la K del PD anche in quel caso vuole difendere il compagno che sbaglia? Solo che il premier romeno è democratico. Sono i famosi democratici, quei famosi democratici che abbiamo anche in Italia. Sul fatto, come vi dicevo, c'è che sono appunto conosciuti perché la stampa se ne interessa. La stampa se ne interessa per differenti ragioni, magari non ci sono altre notizie, non ci sono altre polemiche, la tirano fuori il detenuto italiano, anche perché di Ilaria Salis si sapeva già da un anno, come si sa degli altri 2000 detenuti italiani. Chi si occupa degli altri 2000 detenuti italiani? Nessuno. Le ambasciate in giro per il mondo? Ma anche no. Ma anche no. Quindi voi sapete che nelle ambasciate italiane in giro per il mondo non è come nei film che quando tu hai bisogno arrivi, suoni, ti aprono immediatamente, poi si richiude una saracinesca d'acciaio e tu sei in salvo. Anche no direi, nel senso che nelle ambasciate ambasciate in giro per il mondo, quando tu hai bisogno di qualcosa, telefoni e però non ti risponde nessuno, mandi un'email e non ti risponde nessuno, vai lì. Se voi provate ad andare in un'ambasciata in giro per il mondo, qualunque, e citofonate, vi dicono che, se vi rispondono, vi dicono che si è ricevuti solo su appuntamento, tramite il sito, per alcune cose specifiche bisogna inoltrare i documenti. Questa è la realtà. Gli italiani detenuti in giro per il mondo? Ci sono le ambasciate italiane che si interessano a questo, quello, quell'altro? Io credo, credo proprio di no. Duemila italiani ci vorrebbe solo un ministero, un nuovo ministero della Repubblica che si interessi a questi casi, oltre duemila. Bisognerebbe vedere il processo è stato fatto, no, quali sono le prove, anche perché poi, in realtà, l'ambasciata, le autorità italiane con la giustizia di altri paesi può poco e nulla, ma toglierei anche il poco. I casi come quelli di Laria Salis vengono strumentalizzati dalla politica. Destra contro sinistra, sinistra contro destra, voi, noi, noi, voi. Le tifoserie si scatenano. Scatenandosi le tifoserie la politica si interessa sempre di più perché io la libero, no, la libero io, ci penso io, ci pensi tu. E quindi il caso che diventa politico poi viene risolto, viene tentato di risolvere tra capi di governo perché ormai l'opinione pubblica conosce il caso. Ma degli altri, come questo Mosca di Caltanissetta, dicono con un processo farsa, otto anni di reclusione, ovviamente non se ne interesserà mai nessuno. Oggi ho trovato un articoletto scritto su un giornale di centrodestra che dice, ma ora Schlein perché non chiama il suo amico romeno per il caso Mosca? Sicuramente sarà solo un articolo e non se ne interesserà nessuno perché bisognerebbe interessarsi di tutti i 2000 casi e ci vorrebbero quante centinaia di persone per occuparsi di questo, ma l'Italia se ne è sempre fregata altamente di tutte queste persone. Questa è la realtà. Schlein ovviamente non chiamerà il suo amico romeno, se ne fregherà altamente di questo caso come di tutti gli altri 1998. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia seconda rete e poi questi video sono condivisi praticamente su tutti i social. Grazie a tutti e arrivederci.